Dietro ogni ragazzo, ragazza, atleta che si impegna c'è una vita, c'è una storia, c'è un amore per lo sport, c'è una squadra che si organizza, un club, un'associazione, c'è una comunità che li si stringe intorno. Con queste parole il presidente della provincia, Nicola Zingaretti, ha voluto sottolineare il legame con il territorio e l'importanza del contributo che gli atleti provenienti dalla provincia di Roma hanno fornito alla squadra italiana presente alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra, con i grandi risultati di partecipazione e medaglie. L'occasione è la consegna a Palazzo Valentini del premio CONI Roma, giunto alla decima edizione. Un ringraziamento da parte della comunità ai 43 atleti della provincia di Roma, vincitori di 10 medaglie a Londra 2012.